Queste dichiarazioni mi sorprendono molto e mi dispiace che il signor Goretti dica queste affermazioni, queste accuse ai miei confronti. Questo voglio dire, innanzitutto io non ho mai detto una frase del genere perché lui dice che mi ha sentito nello spogliatoio, mai. Io nello spogliatoio sicuramente non vado a dire che devo calciare un pallone nel campo ma vado a fare le correzioni con la mia squadra e vado a fare dei correttivi come sempre faccio. 30 anni che ho giocato a calcio da professionista, 10 anni che faccio allenatore e penso di poi posso essere, posso piacere, non posso piacere come professionista ma come persona mi sono sempre comportato bene, non ho mai avuto un episodio di antisportività o così disciplinare. Fare tutto questo polverone per comunque, lo ripeto, io non sono una persona che si nasconde davanti a niente, sono sempre diretto e lo sono sempre stato e continuerò ad essere. Sicuramente se volate questo pallone in campo non è stato un gesto sportivo, però da lì a tirare su tutto un polverone di questo tipo mi sembra una comunicazione un po' mirata a a caricare un pochettino, andare un po' sopra le virgolette per caricare la partita di ritorno. Però, ripeto, mi sono sembrate eccessive, ecco perché sul campo comunque c'è stata una squadra che ha meritato la vittoria. Poi sappiamo che c'è un ritorno da andare a giocare, sarà una partita dura ma sarebbe stata dura anche se non ci fosse stato questo pallone che rotolava nel campo.